Amici del Toro, questa è una luna laboriosa, quindi è una giornata in cui dovrete rimboccarvi le maniche perché le cose da fare saranno molte, ma c'è la possibilità anche di guadagnare e di ottenere dei risultati molto importanti. C'è un Marte molto bello che transita nel segno del Capricorno vicino a Plutone, avete anche delle idee geniali, innovative in questo periodo che dovete mettere in pratica, anche se magari potrebbero sembrarvi assurde così ad una prima analisi. Invece sarebbe bene puntarci perché davvero Marte e Plutone possono darvi un'arma in più sul lavoro. Andiamo al segno dei gemelli, luna che transita.